Ciao ancora a tutti noi. Oggi è lunedì 15, siamo entrati nella settimana santa e ormai la croce di Cristo si staglia davanti a noi in maniera potente. In questa stazione della nostra via crucis quotidiana vediamo Gesù che viene inchiodato sulla croce. Gesù è un tutt'uno con la sua croce. Legno e corpo di Cristo sono un'unica cosa, come molte volte anche le nostre vite. Sono un tutt'uno con il dolore e la sofferenza. Certo tutto questo ci disturba, tutto questo per noi è dramma, però nel momento in cui Cristo viene crocifisso c'è una frase che ci colpisce. Padre perdonali perché non sanno quello che fanno. Anche nel dolore Cristo ci è maestro di amore verso gli altri e di amore verso Dio. Ciao a tutti.